ok eccoci qua nel canale tecno alex 73 chromecast questo dispositivo serve da collegare al televisore così insieme al google home che abbiamo visto recentemente può trovare il televisore e trasmettere direttamente dal google home al televisore qualsiasi tipo di contenuto sia audio che video adesso apriamo la scatola vediamo cosa c'è dentro questo si può trovare benissimo su amazon a 15 euro è un dispositivetto che serve per collegare dispositivi al televisore tramite cavo hdmi vediamo se riusciamo a aprirlo perché non è semplice senza tagliarsi una mano ok vediamo un po cos'è questo cos'è ecco qua dispositivo nero ok questo dispositivo si collega con la porta hdmi a televisore eccoci abbiamo istruzioni poi 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 cavo c'è già l'alimentazione e collegamento del cavo per collegarlo alla corrente quindi qui attacchiamo alla presa di qua lo attacchiamo al televisore e lui manda un segnale con la rete wifi al google home che gestendolo dall'applicazione che abbiamo sullo smartphone possiamo riprodurre anche audio e video sul televisore direttamente diciamo per riprodurre tipo netflix infiniti queste cose qua sono riprodurlo possiamo riprodurlo su qualsiasi tipo di televisore o anche altro device che abbia un collegamento hdmi che questo è il prodotto adesso proverò vedrò il funzionamento ok mi raccomando iscrivetevi al canale tecno alex 73 e il pollicione in su ciao e al prossimo video